Allora, sei d'accordo adesso se si dice che la tua squadra ha fatto quello che oggettivamente poteva fare stasera? Sì, sì, loro sono più forti, si è visto in campo, fisicamente ci sovrastano in ogni ruolo e quindi la differenza poi è normale. Se fai la partita perfetta, stai in partita per più tempo, là c'è successo, là siamo stati in partita per i due quarti, ma abbiamo tirato con delle percentuali ottime. Oggi non è successo così, abbiamo preso anche dei buoni tiri nei primi due quarti, non sono andati dentro e poi con loro è difficile. Dall'altra parte abbiamo concesso tanti secondi tiri, perché comunque fisicamente, ripeto, paghiamo Dazio e quando poi sono stato costretto a far uscire Hollande per falli, scusami, Mattias per falli, abbiamo subito ancora di più e lì proprio si è scavato il primo gap e poi da lì per loro è stato tutto in discesa. Senti, noi commentavamo proprio a fine partita, questa squadra non può prescindere da Erin Mattias? Sì, sì, ci dà profondità, ci dà energia lì sotto, ma alla fine non sono tanti punti che realizza, credo abbia una media di 12 punti, credo abbia fatto 12 anche oggi, ma ci dà equilibrio, equilibrio rimbalzo, equilibrio profondità e quindi dobbiamo innanzitutto cercarla anche un po' di più, con più continuità e non possiamo prescindere a lei, perché è l'unica che abbiamo nel roster con queste caratteristiche, soprattutto in questo periodo dove ci manca anche Narviciute, e quindi siamo ancora più in difficoltà a livello proprio di centimetri. Come sta Gabri? Sta meglio, ma non benissimo, sta recuperando, stiamo valutando, non vogliamo affrettare perché comunque i problemi alla schiena sono sempre problemi delicati e vogliamo capire qual è il modo giusto per poi recuperarla. Sono fiducioso che nelle prossime settimane si possa rivedere in campo, però dobbiamo essere certi al 100%. Non nascondiamoci che tutti abbiamo guardato anche i risultati degli altri campi, Torino ha perso, battipaglio ha perso, insomma i play-off sono veramente dietro l'angolo. Sì, ci siamo vicinissimi, è chiaro affinché la matematica non ci dà la certezza, non lo possiamo neanche dire, però ci siamo, abbiamo grandissime probabilità di entrarci e ci avessero detto questo a metà stagione, avremmo detto no, impossibile, ricordo che avevamo girato il giorno in andata con due punti. Siamo cresciuti e quindi andiamo a prenderci play-off forse anche con merito. Ecco.